Allora, ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire in definitiva a ottenere che queste indicazioni fossero seguite, Mattarella viene ucciso, ma ha indotto i mafiosi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi come l'assassinio del presidente Mattarella, nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunziati, ha omesso di denunziare le loro responsabilità, sapeva tutto, non ha detto niente, in particolare in relazione all'omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse a riguardo offrire ottenissimi elementi di conoscenza, in sostanza vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, apprezzabilmente protrazzarsi nel tempo, ha commesso, nel dispositivo che sono tre righe c'è la parola commesso il diritto di associazione delinquere con Cosa Nostra, non scatta la condanna perché il diritto commesso è prescritto, alla prescrizione si poteva rinunziare ma non mi risulta che si sia mai prospettato un discorso di rinunzia alla prescrizione da parte dell'imputato dei suoi difensori. Ora se tutto questo viene contrabbandato falsamente per assoluzione, addirittura per persecuzione dell'imputato innocente non solo è una menzogna, non solo è una truffa, c'è qualcosa di più pericoloso e cioè io negando la verità consacrata anche in Cassazione finisco per legittimare un certo modo di fare politica che contempla anche i rapporti col malaffare, mafia compresa, per il passato, per il presente e per il futuro. Ma in questo modo io se non cancello appanno la linea di demarcazione tra lecito e illecito, morale e morale e non c'è paese al mondo, paese democratico al mondo che possa consentirsi di appannare questa linea di demarcazione. Se non tiene la distinzione netta tra morale e morale, lecito e illecito prima o poi si va a sbattere. La sentenza Andreotti, la gestione che ne è stata fatta, la negazione della verità, il contrabbando del falso, la truffa, ecco presenta anche questo pericolo. Che non si faccia chiarezza sul passato consentendo al passato di riprodursi e perché se un signore è stato sette volte presidente del Consiglio e c'è una sentenza che dice questo popò di roba, discutere quantomeno di questa sentenza per chiedersi come si è formato, come in parte si è formato il consenso nel nostro paese in una certa stagione significa discutere della nostra democrazia, della storia della nostra democrazia, della qualità della nostra democrazia. Non fare questo per me è assolutamente incomprensibile ancora oggi. Sì, infatti mi sembra che siamo nell'ambito del politicamente scorretto con analisi che normalmente non sono fruibili dall'opinione pubblica perché l'informazione evidentemente ancora non è pronta ad affrontare questi temi che lei ci ha chiarito. Invece troviamo un tracciato molto chiaro e fruibile soprattutto per i giovani in questo libro Le due guerre dal titolo politicamente scorretto perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia. Due domande di ordine tecnico con cui noi la vogliamo anche salutare. Innanzitutto lei spesso quando parla con gli studenti o in università parla sempre degli articoli della nostra legislazione riguardo al codice penale che sono sempre degli articoli del giorno dopo. 416 bis, associazione del lingue di stampo mafioso, ter, quater e così via. La nostra legislazione è piena di articoli che poi hanno cercato di colmare questo vuoto dettato dal sangue dei magistrati che hanno dato la vita. Ecco perché secondo lei il suo ex collega Di Lello appunto per avvalorare la sua tesi su Andreotti dice che poi la giustificazione che Andreotti adduce per diciamo legittimarsi l'opinione pubblica. Andreotti dice io non ci sono mai state in tutta la storia della Repubblica leggi antimafia come quelle varate nel mio governo. In realtà il giudice Di Lello dice che loro hanno fatto le leggi antimafia solo quando non potevano non farle. Ecco mi sembra che questo si ricolleghi a quello che diceva lei. Cioè una sorta di quasi diciamo costrizione del legislatore da parte del sangue versato dei segoli. Ma Di Lello dice anche una cosa secondo me molto importante e giusta per quanto riguarda il versante giurisdizione magistratura. Di Lello parla di scaltrezza che a lungo ha contraddistinto caratterizzato l'intervento della magistratura nel senso che si è sempre bravi a teorizzare l'esistenza di rapporti tra mafia e politica ma poi nelle prassi giudiziarie non se ne traggono le conseguenze. Si è scaltri, si preferisce non vedere o sottovalutare ciò che si vede. Ecco un riferimento all'antimafia del giorno dopo è un dato di fatto. Gran parte della nostra legislazione antimafia è un bis, un ter, un quater, un quinquies, un sexies e via seguitando cose che all'inizio non c'erano vengono infilate magari in tutta fretta dopo qualche fattaccio eclatante che ci risveglia da un certo qual torpore. L'esempio più clamoroso è il perno della legislazione antimafia. L'articolo 416 bis che punisce l'associazione mafiosa che punisce la mafia. La mafia esiste da qualcosa come due secoli. Bisogna arrivare ai giorni nostri, 1982, per trovare questo articolo 416 bis, per trovare finalmente la mafia riconosciuta nel libro dei delitti e delle pene, il codice penale, come comportamento vietato e punito. Prima la mafia non esisteva. Per combattere la mafia a livello legislativo c'era soltanto il 416. L'associazione a delinquere è semplice. E Falcone ha detto mille volte che prima del 416 bis, quando si aveva soltanto il 416, era come pretendere di sconfiggere, di fermare un carro armato, la mafia, avendo a disposizione soltanto una cerbottana. Si perdeva sempre. Sì, ecco, noi la ringraziamo per questa chiarezza che non ha bisogno di commenti, perché poi dal 1982 si potrebbe passare al 2009 e alle attuali leggi sulla vendita dei beni confiscati. Suppongo che lei abbia una sua idea che, se puole esplicitare, è libero di farla anche con una parola, con una espressione. Come potremmo sintetizzare questa legislazione attuale? C'è questo problema che si vorrebbero rimettere in vendita i beni confiscati ai mafiosi, metterli all'asta, almeno la possibilità di metterli all'asta. Beh, sarebbe una cosa poco positiva per quanto riguarda l'incisività, la forza della lotta alla mafia, perché se si mettono all'asta i beni confiscati ai mafiosi è sicuro che si ricomprano i mafiosi, che godono di una straordinaria liquidità in questa stagione di crisi economica in modo particolare, e soprattutto hanno un'infinità di vie, prestanome, società fittizie, per non apparire ma diventare di nuovo i proprietari di ciò che faticosamente è stato loro tolto. Far cassa va bene, è un problema, ma fare cassa proprio indebolendo la lotta alla mafia mi sembra un problema che si aggiunge a quello che si vorrebbe risolvere. Noi la ringraziamo per la generosità con cui ha conversato con noi qui a Politicamente Scorretto. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.